Questa sera, allora, fratelli e sorelle nel Signore, vorrei parlarvi della fede, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Quindi la fede, se leggiamo tutte le sacche scritture, vediamo che la fede ha sempre un punto principale e importante in tutto quello che tutti gli uomini, tutti i servitori di Dio e anche quelli che non sono stati chiamati al servizio, che è importante anche per loro, per tutti quanti, perché la fede compie determinate cose nell'uomo, che adesso ne andiamo a citare, facciamo anche soltanto degli esempi, prendiamo dei passi solo ad esempio per stimolare lo studio, la memoria e la ricerca di ogni singolo fratello fratello che vuole approfondire questa dottrina, questo argomento che è importantissimo, è fondamentale. Quindi uno studio, bisogna fare proprio uno studio approfondito nelle sacre scritture sulla fede, perché la fede è, se non la più importante, però sicuramente è tra le cose più importanti che un credente deve avere, deve ricevere e non deve mai lasciare, non deve mai abbandonare, non deve mai naufragare quanto alla fede, non la deve mai lasciare, perché è possibile anche che la fede, sì, venga nel credente e Dio la doni, però è anche possibile che questa vada via. E quindi se la fede va via, ecco, quel credente non può piacere a Dio, non può piacere a Dio e se continua, se persevera nell'incredulità, nel dubbio, senza avere fede in Dio, questo non entrerà nel regno dei cieli, perché senza fede non si può entrare nel regno dei cieli. Ecco perché chi ha fede in Dio deve perseverare nella fede sino alla fine, quindi deve mettere in atto tutti quei comportamenti, quegli studi, quella lettura della parola che gli permettono di alimentare continuamente, di fortificare la fede che abita in lui, affinché questa non venga meno. Lo scopo è sempre quello di non far venire meno la fede che è in noi. E io direi di cominciare a leggere qualche passaggio biblico. Naturalmente leggiamo la definizione di che cosa è la fede. E questo lo leggiamo al capitolo 11 di Ebrei, al versetto 1, leggiamo la definizione, questa definizione di fede va imparata a memoria, bisogna riflettere su ogni singola parola, ma questo è uno di quei passaggi biblici che bisogna sempre ricordarsi a memoria, perché ti deve sempre sovvenire quando ne hai bisogno. E devi anche poter saper rispondere agli altri quando ti chiedono conto della tua fede. E' scritto, leggiamo da Ebrei, 11.1. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi che cos'è la fede? La fede è credere in qualche cosa senza metterlo in discussione. Cioè la fede è certezza. Tu sei certo di quella cosa. Tu sei certo quando sei nato di nuovo, da quel momento che è entrata la fede dentro di te, tu sei certo di essere salvato. È una certezza. Quindi quello che leggiamo nelle Sacre Scritture noi dobbiamo essere certi che le cose sono avvenute in quella maniera, che sono parola di Dio. Noi siamo certi non solo per le cose che sono passate già avvenute, ma noi crediamo anche a quelle cose che sono scritte che devono ancora avvenire. Cioè senza ombra di dubbio le cose che sono scritte nella parola, che ancora devono avvenire, avverranno esattamente così come sono scritte. Questa è fede, è certezza. Per me non si mette in discussione quello che è scritto. Quello che deve avvenire avverrà, che ci piaccia o non ci piaccia. Le cose avverranno così come sono scritte. E uno che ha fede non le mette in discussione, non ha il minimo dubbio dentro di sé. Quindi i fratelli fanno bene ogni tanto a esaminarsi, a vedere se sono, a esaminare se stessi, per vedere se sono nella fede. Leggere le scritture per vedere ma io ci credo in quello che sto leggendo, non devi dare una risposta agli altri e non devi dare una risposta così tanto per dire la risposta che si sa, che uno, un cristiano dovrebbe dare quella risposta. Tu lo devi sentire proprio dentro di te. Ci credi o no in questi passaggi biblici? E dopo ne vedremo alcuni un po' particolari che, diciamo, manifestano veramente, se uno ha fede oppure no. Quindi è importante che abbiamo un corretto rapporto con la parola di Dio tenendo sempre conto che bisogna avere fede e perseverare in essa. Quindi esaminarsi di continuo e anche alimentare questa fede. E dopo vediamo in quali modi si può alimentare la fede. Quindi abbiamo letto la definizione è certezza, quindi il dubbio è il contrario della fede. Se la fede è certezza, il dubbio cos'è? È il contrario della fede. Quindi se uno dubita nelle promesse di Dio, se uno dubita di una parola che Dio gli ha dato, se uno dubita sulla parola scritta, questo non sta manifestando fede, ma sta manifestando dubbio e quindi sta peccando davanti a Dio. Il Dio poi punisce quelli che non credono in lui. E se questo dubbio è così grande e forte che fa scadere addirittura dalla fede e dalla grazia, allora non si entra nel regno dei cieli. Quindi la fede è importantissima e se non c'è fede non si può entrare nel regno dei cieli. Quindi capite quanto è importante avere fede e perseverare in essa sino alla fine. Ancora dice, è dimostrazione, cos'è la fede? Certezza di cose che si sperano. Che cosa speriamo noi? Speriamo che anche il nostro corpo, venuta quando verrà il tempo, sia risuscitato dai morti e entri nel regno dei cieli, anche il nostro corpo. E quindi la nostra speranza è quella di entrare nel regno di Dio, anche con il corpo, perché per adesso siamo salvati solo in speranza. Questa speranza diventa certezza per mezzo della fede. Quindi dobbiamo noi avere fede. E questo è quello che noi speriamo, di essere salvati. Cioè siamo stati salvati in speranza, però ancora non abbiamo avuto la pienezza della salvezza. Cioè il nostro corpo ancora non è risuscitato e non è ancora glorioso, capite? Manca ancora qualcosa. Per arrivare ad ottenere una salvezza piena, per ottenere una salvezza piena, dobbiamo perseverare nella fede sino alla fine. Perché finora abbiamo ricevuto solo alcune cose, ma non siamo giunti ancora alla fine. Quindi dobbiamo perseverare sino alla fine. L'altra parte della definizione della fede è dimostrazione di cose che non si vedono. Io non ho mai visto la nuova Gerusalemme, non ho mai visto direttamente l'inferno. Lo leggo solo dalle scritture. Come non ho visto neanche gli angeli, non ho visto fisicamente neanche Gesù Cristo. Ma io ci credo. Ci dobbiamo credere, anche se non li abbiamo visti con i nostri occhi. Magari ci sono quelli che Dio ha preso col corpo o senza il corpo, questo non lo so, e sono stati portati adesso a visitare la nuova Gerusalemme, a visitare l'inferno. Hanno visto magari anche degli angeli. Ecco, questi ci credono anche perché li hanno visti. Ma anche noi ci dobbiamo credere, anche noi che non abbiamo visto queste cose, ci crediamo perché sono scritte nella parola. Quindi anche se noi non le vediamo, non le abbiamo viste, non le vediamo con i nostri occhi, pure ci crediamo. Ci crediamo e quindi è una cosa dimostrata. Cioè per noi non è... per un credente che ha fede in tutto quello che è scritto, per un credente che ha fede la cosa è dimostrata, cioè le cose scritte sono dimostrate, sono certe. Non è discutibile, non si può mettere in discussione, ad esempio, che Dio abbia creato dal nulla, che Dio abbia creato i cieli e la terra. E' una cosa, siccome è scritta per noi, è dimostrata, cioè è indistruttibile, è inattaccabile, non si può dimostrare il contrario, praticamente. Abbiamo creduto e questa è la fede. Perché uno ci crede in queste cose che sono scritte? Ci credi perché hai fede in Dio. A volte sembra una cosa, magari uno dice, ma che cos'è la fede? Se tu leggi un passo delle scritture, come ad esempio il Dio fatto i cieli e la terra, e ci credi, è fede in quel passo, è fede in Dio, anche quello. Perché gli increduli, magari sì, magari possono accettare qualcosa, non ne accettano altro, ma la fede, la fede ti fa accettare tutto quello che è scritto nella parola. Ti fa accettare tutto, perché per te la parola, la parola, la somma della parola è verità. Perché le sacche scritture sono la parola di Dio, quindi, quindi ci credi, non è discutibile, non lo metti assolutamente in discussione. E gloria a Dio, e questo vuole dire fede. se uno crede, nella parola di Dio, crede sia al fatto che c'è scritto che Dio ha fatto i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e ci credi. Però nella parola è scritto anche che Dio manda i suoi giudizi sulla terra, fa vivere, fa morire chi vuole, e ci credi, perché è scritto. Poi c'è scritto anche che Dio castiga i suoi figlioli disubbidienti, quelli che non obbediscono alla sua parola. C'è scritto e tu ci credi? Se uno ha fede in Dio e nella parola ci deve credere. Perché è importante questo? Quando noi ci troviamo a dover discutere sulle opere, facciamo un esempio, prendiamo un esempio sulle opere, se sono da fare o no, e se è scritto che bisogna farle, io ho fede e so così parlo e così devo fare. Chi invece parla contro e quindi neanche mette in pratica non è solo una questione che con le sue opere non sta mettendo in pratica la parola di Dio, ma sta manifestando anche di non avere fede in quei passaggi biblici, in quell'ordine che Dio ha dato. Quindi, vedete, c'è qualcosa di più grave che cadere nel peccato. ed è quella lì di non avere fede. È una cosa, è un'altra, è un'altra ancora, e non credono che Dio manda i giudizi, e non credono che Dio castiga, e non credono altre cose, e non credono all'inferno. Capite bene che qui non c'è più un problema di comportamento o altro, ma c'è proprio un problema di fede. Quindi, da queste cose noi comprendiamo che non è che c'è solo una questione che questo, vabbè, viene da un certo insegnamento, no, no, è proprio un problema di fede. E quindi, stanno mostrando poca fede in quello che è scritto e riceveranno da Dio quello che si meritano. Perché ricordatevi che è scritto anche che senza fede è impossibile piacergli. E questo è scritto al versetto 6, 11,6 di ebrei, è scritto Or, senza fede è impossibile piacergli. Capite cosa è scritto? È impossibile, non si può piacere a Dio. Ora, uno che non piace a Dio, può mai entrare nel regno dei cieli? Può essere mai accolto da Dio nel regno dei cieli se questo non ha fede? Se non gli piace a Dio? E no, e no, non è possibile. Quindi vedete quanto è importante sapere bene cosa è la fede e saperla coltivare, curare, innaffiare e che ci sia sempre dentro di noi esaminandosi del continuo per vedere se la fede è ancora dentro di noi. È importante questo, sapersi esaminare perché sapersi esaminare secondo le scritture vuole dire anche maturare spiritualmente, essere maturi, quindi ci mettiamo da soli alla prova per vedere se siamo ancora nella fede perché se uno non crede a questo passo, non crede a quell'altro, non crede a quell'altro, insomma, le cose cominciano a aumentare e il dubbio sta prendendo piede sempre di più, quindi la fede si sta rimpicciolendo, si sta ritirando. Ricordatevi anche Pietro, vi ricordate che Gesù camminò nelle acque? Pietro gli disse comandami di venire a te sulle acque e lui gli disse vieni Gesù Pietro cominciò a camminare sulle acque badate bene cominciò ebbe una fede tale da poter camminare anche Pietro per un certo per un certo momento di camminare sulle acque anche Pietro camminò poi a un certo punto con i suoi occhi cominciò a guardare le onde, la tempesta e venne meno. Guardando con i suoi occhi fisici si è impaurito è venuta meno la sua fede ed è caduta in acqua. E così succede. Se la fede se stai facendo una cosa stai vivendo la vita per fede e questa fede si ritira questa fede diminuisce questa fede scompare tu quel cammino che stai facendo non lo potrai più fare come lo stai facendo purtroppo se uno è un servitore di Dio e la sua fede a un certo punto viene meno per le prove le persecuzioni o altri motivi se viene meno praticamente non è più gradito a Dio capite? quindi bisogna stare attenti tutti che siano semplici fratelli o che siano servitori di Dio devono sempre dare una particolare importanza alla fede a cosa è la fede dove è arrivata la fede in lui fino ad oggi è cresciuta è diminuita è rimasta lo stesso della stessa misura quindi bisogna stare attenti bisogna avere il massimo riguardo per quanto riguarda la fede come ho già accennato per mezzo della fede per mezzo della fede noi siamo stati salvati e leggiamo adesso in romani cosa è scritto quindi guardate quanto è importante per capire quanto è importante la fede c'era un momento della nostra vita in cui noi non avevamo fede ed eravamo perduti nei nostri falli e nei nostri peccati a un certo punto il Dio si è compiaciuto nel tramite lo Spirito Santo nel far entrare lo Spirito di Dio dentro di noi e portare dentro di noi quella fede quella certezza quella fiducia a credere ci ha portato a credere nel sacrificio compiuto da Gesù Cristo nella croce e per mezzo di questa fede noi siamo stati rigenerati spiritualmente i nostri peccati sono stati rimessi e lavati dal sangue di Gesù Cristo per mezzo di che cosa delle nostre opere no per mezzo solamente della fede abbiamo avuto fede e noi siamo stati rigenerati spiritualmente siamo diventati una nuova creatura siamo diventati figlioli dell'Iddio Altissimo e leggiamo adesso in Romani leggiamo queste parole Romani capitolo 3 dal versetto 21 ora però indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti poiché non v'è distinzione difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso quindi è per mezzo della fede che noi siamo stati salvati non perché ce lo meritavamo non perché noi ci siamo comportati bene abbiamo aperto il nostro cuore no nulla di tutto questo il Dio si è compiaciuto di darci la fede per mezzo di questa fede di questa certezza siamo stati lavati dai nostri peccati siamo stati redenti siamo stati liberati dalla conseguenza del peccato che abbiamo compiuto la conseguenza del peccato è la morte e Dio mediante la fede ci ha dato la vita ci ha dato la vita eterna però se questa fede che ci è stata data viene meno non ci sarà più è chiaro che anche la vita se ne va eh badate bene non è che se ne va la fede se ne va la vita e torna il dubbio e torna il peccato e torna la morte capite qui o lasciamo o alimentiamo la fede che ci porta la vita o altrimenti si alimenta il dubbio che è il contrario della fede e questo porta la morte e così non deve essere assolutamente quindi dobbiamo saperle queste cose e dobbiamo ricercare nella parola di alimentare continuamente la fede ecco perché vi dico fratelli siccome la fede vi anticipo la conclusione di tutto il discorso è che la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo ecco perché vi spingiamo continuamente a studiare ogni giorno le sacre scritture non perché tutti dovete diventare dei dottori della parola o insegnare tutti quanti no quelli che Dio stabilirà insegneranno e faranno da guide per gli altri ma tutto ciò per studiare serve per alimentare la propria fede dentro il proprio cuore capite perché tu leggi che Gesù ha guarito tu credi che Gesù guarisce se tu credi che Gesù ha punito i peccatori tu credi che Gesù ha punito i peccatori se Gesù ha fatto questo ha fatto quest'altro il Dio ha operato questo ha operato quest'altro tu lo leggi e lo credi ti stai anche esaminando stai dicendo sì io ci credo io non ho dubbi così è scritto e così Dio ha fatto e così Dio farà ecco stai mostrando di avere fede lo stai mostrando a te stesso capite lo stai mostrando a te stesso e questo è importante sapersi esaminare imparare ad esaminarsi per vedere ogni giorno se siamo nella fede se tu quando preghi Signore donami questo e subito passa un pensiero che no a te non te lo dà no io non me lo merito no io non lo riceverò no questo non è per me questo non è fede è dubbio e quindi devi esaminarti perché devi riconoscere queste parti della tua vita che non sono da Dio per poterle combattere rigettare le cose sbagliate e trattenere le cose invece che sono che sono giuste che sono da da parte di Dio quindi è importantissimo esaminar sapersi esaminare esaminarsi attraverso la parola queste cose bisogna conoscerle ecco perché bisogna studiare le scritture mica solo quelli che devono predicare devono studiare le scritture devono studiarle tutti quanti perché è lì che troverete l'alimentazione della vostra fede è lì che si metterà l'olio alla lampada finché arda sempre di più è proprio lì è nella parola è nella roccia è in Cristo Gesù non si può andare da nessun'altra parte per crescere spiritualmente e per crescere anche nella fede è perché la fede sia mantenuta anche non solo crescere ma anche mantenerla se uno non legge le scritture non si fida delle scritture non gli piacciono le scritture non gli interessano le scritture e questa è già una manifestazione contraria della fede è già dubbio capite dopo lo faccio tu credi che sia più importante studiare le scritture che fare tante altre cose se tu lo credi lo devi fare ma se tu dici lo faccio dopo le studio dopo ma oggi adesso sono stanco per fare tante altre cose non sei stanco per fare i tuoi fatti non sei stanco per leggere le scritture invece ti senti stanco ah sì eh ma la stanchezza poi ti porta a spegnere lo spirito e anche la fede eh guardate bene se uno lascia spazio alla stanchezza sì lo so che a volte ci si sente stanchi eh non è che però ti metti in preghiera e vedi come ti tornano le forze ti metti a pregare poi ti metti a studiare la parola ti tornano le forze le forze che vengono dall'alto delle forze spirituali che vengono da Dio e non permetteranno che la tua fede venga meno per custodire la fede dentro di noi ci vuole tanto impegno fratelli e sorelle non è non abbiamo ancora non siamo arrivati alla conclusione di nulla ancora eh quello che conta è la fine la cosa più importante è la fine di una cosa vale meglio la fine che il suo principio ora se non c'è un inizio è chiaro che non ci può essere neanche una fine se uno non entra se uno non è stato salvato non è che la fine sia importante perché quello non è mai stato salvato e finirà male finirà all'inferno ma chi è stato salvato e non si prende cura di queste cose non gli interessa la parola la preghiera e piacere a Dio e allora si è partito bene ma la fine la fine non non andrà bene la fine sarà peggiore dell'inizio capite quindi se la fine sarà peggiore dell'inizio non si può entrare nel regno dei cieli se invece la fine è migliore del suo principio allora va bene ma per arrivare a questo alla fine per arrivare ad avere a fare una buona fine a finire nella fede perseverando nella fede ci vuole impegno bisogna impegnarsi non è che le cose vengono da sé devi prendere la giornata ogni giornata la devi dividere fare le cose che devi fare per te per il lavoro per la famiglia e devi trovare il tempo per pregare per studiare la parola se tu non studi la parola la fede non viene alimentata la fede viene meno verrà meno stai tranquillo è una cosa matematica è sicura non è una cosa che può anche non succedere perché già il fatto che tu non stai studiando le scritture vuol dire che non hai fede in questa in quest'opera ma è scritto che la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo non è che la parola debbe sempre essere annunziata dagli altri uomini cioè devi anche impararla da quello che è scritto nella parola direttamente ti devi impegnare non capirai tutto ma non fa niente capirai quello che Dio ti farà capire e questo è importante la maggior parte dei passi vanno presi letteralmente quindi non è che devi fare i salti mortali per capirli ti prendi un dizionario di italiano e questo è sufficiente se Gesù ha guarito va preso così come 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 scritto quindi la tua fede nella guarigione nell'opera di Gesù Cristo è scritta così cioè non devi fare nessun salto nessuna ginnastica mentale per capire perché è scritto così così è scritto e così noi noi intendiamo e così noi lo prendiamo quindi non c'è non bisogna farsi prendere dalla paura di non capire o di perdere tempo leggendo no non è assolutamente così il Signore ti sta mettendo alla prova se tu vai a Lui perché quando tu leggi stai andando al Signore tu stai andando a Dio stai parlando con Lui o meglio Lui sta parlando a te quindi lo devi fare anche con una certa riverenza non solo lo devi fare ma lo devi fare anche con una certa riverenza ascoltare quando Dio parla ecco perché alcuni grandi servitori di Dio hanno studiato la parola in ginocchio perché Dio che stava parlando loro e si sono messi in ascolto perché riconoscono questo vuol dire fede avere fede nella parola di Dio io so cosa è la parola di Dio io so che quelle parole che sono scritte provengono da Dio non ho il minimo dubbio quindi se io anche mi prostro faccio a terra inginocchiato a leggerla a meditarla sto manifestando che cosa è la parola di Dio non è che sto adorando un libro di carta inchiostro non è è il significato sono le parole che escono leggendo da quel libro che penetrano nell'anima che la parola di Dio è vivente ed efficace penetra nell'anima in profondità è quella che è vita non la carta inchiostro non è il libro di carta che va che va diciamo va venerato come fosse qualche cosa no no ma è quello che c'è scritto dentro quando tu lo leggi è lì che diventa vive è parola di Dio vivente capite perché per uno che non crede a quello che legge rimane solo un libro di carta non gli fa niente è carta carta delle parole scritte con inchiostro non gli dice niente non intende perché il Dio non gli dà intendimento quindi non è che si deve ci si deve inginocchiare al libro di carta ci si inginocchia al messaggio che quel libro ci trasmette quella è la parola di Dio vivente ma è importante è importante farlo è importante studiare la parola perché così tu manifesti manifesti la fede in Dio anche studiando si manifesta la fede in Dio se non studi la parola di Dio tu non credi che quella sia parola di Dio tu non credi che Dio voglia che tu la studi e impari direttamente da Lui stai mostrando del dubbio ti stai comportando da persona non savia una conferma del fatto che siamo stati salvati per fede e non perché l'abbiamo meritato non per opere lo andiamo a leggere ancora in Galati al capitolo 2 dal versetto 15 leggiamo noi che siamo giudei di nascita e non peccatori di fra i gentili avendo pur non di meno riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù affin di essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata giustificato vuol dire reso giusto purificato da ogni peccato e come si diventa giusti si diventa giusti per mezzo della fede nel sacrificio che ha compiuto Gesù Cristo ecco come si diventa giusti e questa fede è quello che ci ha rigenerati è la fede che ci ha salvati non sono le opere che abbiamo compiuto le opere devono essere una conseguenza della fede quindi prima viene la fede che ci rigenera spiritualmente e dopo l'uomo il credente deve mettere in pratica tutte quelle opere che manifestano cioè rendono visibile esteriormente la fede che c'è nel tuo cuore quindi un cristiano non può comportarsi come si comportava prima di convertirsi un cristiano non si può comportare come si comporta il mondo perché avendo fede sa che alcune cose piacciono al Signore altre no e lui quelle che non piacciono non le fa quindi per quanto riguarda la carenza di opere di cui alcuni parlano cioè che non sono le opere che salvano quelle valido prima della della rigenerazione spirituale non sono quelle opere che ti hanno salvato ma le opere che fai dopo manifestano la fede che tu hai se tu non fai le opere non stai manifestando fede quindi il problema maggiore non è che sono tanto le opere ma è la fede che manca capite come di poi lo spiega bene Giacomo al capitolo 2 della sua epistola lo spiega bene cosa significa senza senza le opere la fede è morta perché la fede le opere mostrano la fede che tu hai in base a quanta fede uno ha così vive tutti noi ci comportiamo diversamente gli uni dagli altri perché ognuno di noi si muove in base alla fede che ha che ha ricevuto da Dio praticamente non siamo tutti uguali però fino a un certo movimento di una certa misura più o meno va bene perché siamo sempre siamo sempre diciamo il Dio si compiace ma se uno proprio ha un comportamento invece peccaminoso una vita peccaminosa immersa nel mondo allora lì la fede è venuta meno perché tu non credi che Dio ti possa castigare tu non credi che Dio si dispiace se fai il male quindi illudersi di essere salvati anche senza compiere le opere non è che tanto sono le opere che ci dobbiamo concentrare cioè non è che se tu fai quelle opere sei o non sei salvato il problema è maggiore cioè sono quelle opere che ci mostrano che tu hai fede quindi alla fine quello che non ti fa entrare nel regno dei cieli è la mancanza di fede che si è vista perché mancavano le opere ecco qua spiegato è semplice non è difficile anche perché siamo già stati salvati quel capitolo 2 famoso di Giacomo che dice che arriva alla conclusione che senza le opere la fede è morta quelle parole le sta rivolgendo ai credenti che sono nati di nuovo non le sta rivolgendo ai non credenti non sta dicendo che si nasce di nuovo per le opere no sta dicendo a quelli che sono già stati rigenerati per mezzo della fede senza le opere gli sta dicendo adesso però fatele le opere perché per le opere se sei stato rigenerato veramente qual è il tuo problema di non compiere le opere che piacciono a Dio ma qual è il problema se tu non le compi c'è un problema di fede perché le opere manifestano la fede che tu hai quindi attenzione questo serve anche come conoscenza per riconoscere quelli che parlano in un certo modo o che si conducono in un certo modo perché uno che vive nel peccato e ti dice no tanto sono già stato salvato non è per le opere che vengo salvato è perché vuole giustificare il suo peccato è perché vuole nascondere la sua mancanza di fede in Dio e che lui si illude perché dopo illusione non è una speranza e non è una certezza si illude di entrare anche vivendo nel peccato ma non è così perché Dio non è ingiusto Dio non ha riguardi personali cosa vuol dire vuol dire che se Dio ha detto che il ladro il fornicatore l'assassino vanno in perdizione ci vanno sia se questo è nato di nuovo e sia se non lo è perché se nel momento in cui uno muore senza ravvedersi sia il perduto quello mai nato di nuovo e sia quello che un tempo si è ravveduto è nato di nuovo ma ha vissuto nel peccato e poi non si ravvede prima di morire siamo tutte e due in uno stato di mancanza di ravvedimento e noi sappiamo che il ravvedimento è Dio che lo dà quindi se Dio decide anche Dio ha già deciso che i non credenti quelli che non nascono mai di nuovo non essendo scritti nel libro della vita quelli andranno per forza di cose in perdizione dritti dritti senza problemi per quanto riguarda i credenti invece anche lì è Dio che decide se Dio se uno si svia e Dio non gli concede il ravvedimento anche poco prima di morire e quello va in perdizione vedete quindi è sempre Dio che ha deciso e ci sono di quelli che vanno in perdizione perché non sono mai stati scritti nel libro della vita e ci sono di quelli che vanno in perdizione perché sono stati scritti nel libro della vita ma poi vengono cancellati e che in Apocalisse è scritto anche quello non solo in Apocalisse anche nella legge che è scritto che Dio cancella quelli che peccano e quelli a cui poi Dio non vuole più dare il ravvedimento e quelli vanno in perdizione e quindi ogni giorno noi dobbiamo guardare come ci stiamo conducendo cioè queste cose le dobbiamo sapere perché così sappiamo sempre al punto in cui siamo arrivati sappiamo sempre se stiamo camminando nella via di Dio oppure no un fornicatore un adulto lo deve sapere che va in perdizione rimanendo in quella situazione quindi deve impegnarsi per ravvedersi abbandonare il peccato e chiedere perdono a Dio e se non lo fa è perché Dio non glielo sta concedendo ma deve anche sapere che sta andando in perdizione non è che sarà salvato no sarà cancellato il suo nome il suo nome sarà cancellato quindi vedete la fede è importante molto importante perché senza fede è impossibile piacere a Dio senza fede non si nasce di nuovo non si viene salvati senza fede non si entra nel regno di Dio guardate quanto è importante la fede ad esempio una delle cose che il credente fa dopo che si è convertito è quella di chiedere tante cose al Signore in preghiera no? gli chiediamo chi non ha lavoro gli chiede un lavoro chi non ha moglie gli chiede moglie chi non ha marito gli chiede marito chi non ha i doni spirituali chiede i doni spirituali chi non ha i doni di ministerio la sapienza l'intelligenza tutte le cose di cui uno ha bisogno in preghiera le chiede al Signore ecco una cosa che tutti i credenti devono sapere quando si mettono in ginocchio per chiedere qualcosa al Signore è che c'è un elemento che non deve mancare mai ed è la fede come dice Giacomo Giacomo lo spiega lo dice al capitolo 1 di Giacomo dal versetto leggiamo dal versetto 5 che se alcuno di voi manca di sapienza la chiegga a Dio che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare e gli sarà donata ma chiegga con fede senza star punto in dubbio perché chi dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento spinta qua e là non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore cioè chi dubita ecco perché è pericoloso ci vuole la fede e bisogna combattere contro il dubbio chi dubita è una persona instabile incerta ora è da questa parte ora è dall'altra poi ritorna nella prima posizione insomma girovoca come una canna dimenata dal vento come un'onda del mare che fa su e giù e qui Giacomo dice non pensi già a quel tale di ricevere nulla dal Signore quindi chi dubita chi si mette a chiedere a Dio qualcosa ma dubitando non riceverà nulla quindi una delle cose che caratterizza il cristiano cosa è la preghiera dopo che è nato di nuovo dopo che è stato salvato capisce che ogni cosa di cui ha bisogno per lui o desidera anche per gli altri lo deve chiedere a Dio in preghiera ma deve sapere questo fratello che o questa sorella tutte le cose che chiederai le devi chiedere per fede se tu non hai fede quelle cose Dio manco ti ascolta non verrai esaudito una delle caratteristiche per essere esauditi nella preghiera è che bisogna chiedere con fede se tu chiedi senza fede non puoi non puoi piacere a Dio e non viene ascoltato non viene esaudito quindi vedete quanto è importante tutta la vita del credente è impregnata di fede deve esserci la fede capite perché dobbiamo continuamente alimentare la fede affinché non venga meno alimentandola leggendo le sacre scritture leggendo io sono malato devo leggere tutti i passi di malattia ho problemi con qualcuno non ti ha problemi spirituali allora mi leggerò i passi dove Gesù caccia i demoni questo vuol dire manifestare fede nella parola di Dio perché leggendoli la tua fede si fortifica almeno che tu leggi ma non ci credi se tu leggi e non ci credi allora il dubbio attanaglia il tuo cuore e quindi non stai camminando bene non stai camminando come piace al Signore quindi è importante per ottenere l'esaudimento di ogni nostra preghiera pregare con fede quindi se ti passa mentre stai chiedendo una cosa ti passa il pensiero tu non la riceverai ma tanto a meno mi ascolta stai manifestando dubbio devi rigettare questi pensieri devi gettare via non devi permettere che si fermino nella tua mente e nel tuo cuore esamina di continuo te stesso gli apostoli cosa facevano riconoscendo che la fede era così importante guardate cosa facevano gli apostoli a che cosa esortavano i credenti li esortavano a perseverare nella fede e lo facevano in questa maniera quindi il capitolo 14 di atti degli apostoli dal versetto 21 e avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli se ne tornarono a Listra a Iconio ed Antiochia confermando gli animi dei discepoli esortandoli a perseverare nella fede e dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni questo è importante ci avevano evangelizzato in quelle città gli apostoli i fratelli si erano convertiti poi chirovagando sempre per evangelizzare poi tornavano in quelle chiese che si erano formate e li esortavano a mantenersi fermi nella fede a perseverare nella fede perché è importante anche esortare i fratelli a perseverare perché qui dicono qui dice Luca che si deve entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni questo ci aspetta c'è molto lavoro da fare bisogna santificarsi bisogna soffrire bisogna combattere contro il mondo bisogna combattere contro la carne bisogna combattere contro il peccato avremo molti nemici che si opporranno nel nostro cammino ci saranno anche quelli che ci perseguiteranno ci insultano ancora ad esempio la persecuzione fisica noi non l'abbiamo ricevuta ma attenzione dobbiamo essere pronti anche a riceverla perché bisogna entrare bisogna saperlo bisogna entrare nel regno dei cieli passando molte tribolazioni e sofferenze anche la persecuzione fa parte di questo magari ci insultano le nostre persecuzioni più che altro sono spirituali ci insultano ce ne dico di tutti i colori si oppongono ci perseguitano anche al lavoro nel senso che sempre con le parole però ancora non siamo stati messi nelle catene presi con un baston abbastonate fino a farci morire ancora no però potrebbe venire anche quello cosa dice qui Luca cosa facevano gli apostoli sapendo che queste persecuzioni possono anche farti scoraggiare li esortavano a perseverare nella fede perché è nella fede che si resiste se tu hai fede resisti ma fammi capire un po' ma tu sei di quelli che è convento che vivi nel peccato e quando viene la persecuzione stanno per tagliarti la testa tu dici no no tagliatemi pure la testa ma io non rinego Cristo voi pensate che uno passa dai piaceri della vita senza sacrifici a dare tutta la sua vita per Cristo in un attimo no no ci vuole un lavoro costante una preparazione mentale e spirituale un prepararsi capite prepararsi nel tempo a soffrire determinate cose può avvenire può avvenire che il Signore permetta che noi siamo perseguitati anche a morte ma lo devi sapere adesso ti devi preparare devi pregare ti devi fortificare lo devi leggere nelle scritture devi vedere come hanno fatto gli altri devi prepararti mentalmente spiritualmente a dover sacrificare la tua vita non è che uno che vive nei piaceri della vita improvvisamente si fa uccidere così quindi cessa immediatamente dai piaceri della vita e passa subito a essere ucciso se quello non ha saputo soffrire le persecuzioni le male parole del mondo l'isolamento dal mondo perché il mondo ti isola se tu ti santivichi perché vuoi piacere a Dio il mondo ti isola e ti allontana da sé non ti riconosce come suo chi vive nel peccato è perché non vuole essere isolato e discriminato a cagione dell'Evangelo e allora fa esattamente le cose che fanno quelli del mondo e il mondo lo riconosce come suo ma uno che vive così per anni ma vuoi all'improvviso che fa gli viene una fiamma improvvisa per farsi tagliare la testa ma io non ci credo io non ci credo che sia così a questo non ci credo io credo piuttosto che quello sia più probabile che rinneghi Cristo pur di continuare a vivere che uno che ha sempre vissuto nei piaceri della vita più che farsi tagliare la testa e rinunciare quindi ai piaceri della vita no non è possibile quindi noi dobbiamo essere di quelli che si devono preparare alla persecuzione e quindi anche tra di noi ci dobbiamo esortare a perseverare nella fede sin alla fine come facevano gli apostoli e sapendo che il mondo ci odia il mondo ci fa la guerra il maligno ci fa la guerra non siamo amati dal mondo noi se il mondo ci ama qualche problema ce l'abbiamo con il Signore se il mondo ci ama se il mondo invece ci odia e vuol dire che gli abbiamo annunziato l'Evangelo gli abbiamo detto che se che se non si ravedono andranno all'inferno e questo non lo vogliono sentire ecco perché c'è l'isolamento c'è l'isolamento e c'è l'allontanamento dei Santi da mezzo a loro perché noi gli ricordiamo stimoliamo la loro coscienza che se non smettono di peccare andranno all'inferno già faticano anche senza di noi faticano a far tacere la loro coscienza quelli del mondo figuriamoci se hanno anche una testimonianza davanti ai loro occhi è sempre più forte la coscienza griderà più forte e questi staranno male non dormiranno più la notte ecco perché ci odiano noi non gli dobbiamo ricordare che sono peccatori loro preferiscono quelli che gli dicono no Dio ti ama così come sei ecco perché quelli sono amati quelli che hanno questo messaggio così continuano a vivere nel peccato tanto Dio mi ama così come sei la mia coscienza mi accusa ma sta sbagliando la coscienza capite perché anche quel predicatore mi ha detto che che il Signore mi ama così come sono e quindi non devo rinunciare a nulla e questo è un problema che ha fatto scatturire le false predicazioni di oggi purtroppo perché si spaventano quando gli annunzi l'inferno che devono ravvedersi perché felice quando Paolo gli parlava di giudizio avvenire si spaventò perché perché il messaggio dell'Evangelo spaventa tu gli dici ravvediti e credi nell'Evangelo e sarai salvato salvato da che cosa dov'è il pericolo glielo devi dire per rendere il messaggio completo no il messaggio completo è questo tu devi essere salvato perché stai andando all'inferno ecco qual è dove brucerai prima l'inferno brucerai per un tempo e poi sarai scaraventato nello stagno di fuoco e di zolfo dove lì soffrirai per l'eternità e e quindi ecco perché tremano tremano dalla paura ecco perché non ti possono sopportare no io queste parole non le voglio più sentire qualcuno mi diceva non le voglio sentire queste parole vogliono sentire solo parole buone che li tranquillizza non le parole che li spaventa come anche felice era spaventato dal messaggio che gli dava l'apostolo paolo vedete quindi l'esortazione che davano che davano gli apostoli ma questa esortazione a perseverare nella fede e facendo pensare preparare i santi alle persecuzioni alla sofferenza questa esortazione a perseverare l'ha fatta anche Gesù andiamo a leggere in Matteo al capitolo 24 leggiamo dal versetto dal versetto 9 allora vi getteranno in tribolazione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome e allora molti si scandalizzeranno vedete cosa dice Gesù saranno odiati li uccideranno e molti saranno scandalizzati cioè si tireranno indietro vedendo tutta quella sofferenza ma uno che vive nei piaceri della vita come fa sono i primi questi a scandalizzarsi a tirarsi indietro e allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda e molti falsi profeti sorgeranno e sederanno molti e perché l'iniquità sarà moltiplicata la carità dei più si raffredderà ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato vedete Gesù ci mette in guardia ha messo in guardia gli apostoli discepoli dell'epoca quando ha parlato ma con le sue parole riportate da Matteo Gesù mette in guardia anche noi da tutte quelle cose il mondo ci odia ci vuole uccidere ci vuole eliminare da questa faccia della terra però noi dobbiamo sapere le parole di Gesù l'hanno detto che solo chi avrà perseverato nella fede sino alla fine sarà salvato sino alla fine attenzione sino alla fine non per un tempo non per un tempo quelli che credono per un tempo e si tirano indietro quando c'è una tribolazione sono citati anche nella parabola del seminatore quelli sono quelli che hanno il cuore rappresentato dal terreno roccioso gli viene annunziata la parola subito credono la piantina spunta ma vengono le prove le persecuzioni e questi si tirano indietro credono per un tempo è scritto credono solo per un tempo Gesù qui invece ha detto chi avrà perseverato sino alla fine quindi non c'è solo un tempo ma tutto il tempo tutto bisogna perseverare sino alla fine nella fede altrimenti non si può entrare nel regno dei cieli capite quindi dobbiamo saperle noi queste cose ricordarle prima di tutto a noi stessi e leggendole il Signore te le ricorda se uno studia le scritture queste parole poi se le ricorda gli parlano gli torna in mente tutto il discorso il ragionamento quindi di nuovo viene esortato a santificarsi viene esortato a perseverare nella fede sino alla fine se uno studia le scritture se uno non le studia queste cose non gli vengono ricordate da Gesù e se non gli vengono ricordate neanche dai fratelli capite si va spegnendo tutta la luce il sale diventa insipido e quindi il sale bisogna gettarlo via calpestarlo con i piedi cosa ce ne facciamo di sale che non sala no cosa ne fate cosa ne facciamo bisogna bisogna gettarlo via e quindi bisogna perseverare fino alla fine nella fede quindi vedete che la fede bisogna esortare bisogna ascoltare le esortazioni a perseverare nella fede e bisogna anche farle perché talvolta ci troviamo di fronte non solo in mezzo a noi ma anche contattando fratelli di altre denominazioni chiese perché sono fratelli non è che siamo solo noi i salvati i figlioli di Dio ci sono anche altri fratelli che tu ti accorgi che hanno una fede una fede barcolante è come un lumino che si sta spegnendo e allora hai l'incarico il compito devo trovare il modo di alimentare quella fiamma da una fiammella deve diventare un fuoco intenso capite e questa responsabilità ce l'abbiamo tutti ricordare la verità i santi ha anche questo scopo di fortificarli nella fede di indirizzarli a studiare le scritture affinché la fede sia fortificata e questa fiamma arda di più e non si spenga non dobbiamo spegnere l'ucignolo fumante lo dobbiamo alimentare di chiunque si tratti amici e nemici possibilmente facciamolo se ci permettono di farlo anche i nostri nemici lo facciamo non è facile ma devono permettercelo cioè bisogna che ci si instauri una comunicazione questa comunicazione non c'è è chiaro che non siamo in grado di farlo ma noi vogliamo il bene di tutti il bene di tutti anche degli increduli possibilmente ma soprattutto dei fratelli di quelli che sono stati rigenerati da Dio e che sono nostri fratelli adesso io volevo farvi degli esempi prendendo dei passi delle scritture un po' diciamo contrari alla scienza e alle cose naturali così uno si mette alla prova e dice ma io ci credo a questo che sto leggendo o no è perché qui quindi la fede viene messa alla prova la fede viene messa alla prova leggendo questi passi partiamo dal primo passaggio che anche tra i più conosciuti ma non tutti ci credono purtroppo ci sono predicatori che non ci credono a quello che leggono leggiamo il passo leggiamo il passo uno dei passi che è tra i più più duri e difficili da accettare ed è il passaggio del popolo di Israele dal Mar Rosso qui ho sentito le spiegazioni scientifiche più assurde che c'è stata una bassa marea che ci sono state tante cose che sono successe invece la scrittura ci dice che il passaggio del Mar Rosso è avvenuto perché Dio nella sua potenza ha aperto il mare in un certo punto ha fatto un passaggio in mezzo al mare e il popolo di Israele è passato in quel passaggio come sull'asciutto come sull'asciutto e questo è scritto ma non tutti lo accettano quindi ci sono anche purtroppo tra quelli che si dichiarano essere cristiani credenti fanno fatica questo ed altri passaggi a crederci che siano esisti che si siano avverati così come sono scritti ora leggiamo il passaggio del Mar Rosso capitolo 14 di Esodo dal versetto 21 e questi ed altri passaggi che io vi leggerò metteranno alla prova la vostra fede voi che ascoltate tutti quelli che ascolteranno anche dopo bisogna che vi domandiate ma io ci credo a questo che è scritto o no perché se cominciate a cercare una giustificazione scientifica è chiaro che voi non ci credete e quindi non avete fede in questo passo e forse non avete proprio fede capitolo 14 di Esodo dal versetto 21 ormose stese la sua mano sul mare e l'Eterno fece ritirare il mare mediante un gagliardo vento orientale durato tutta la notte e ridusse il mare in terra asciutta e le acque si divisero e i figlioli di Israele entrarono in mezzo al mare sull'asciutto e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra e gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli di faraone i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro a loro in mezzo al mare e avvenne verso la vigilia del mattino che l'Eterno dalla colonna di fuoco e dalla nuvola guardò verso il campo degli egiziani e lo mise in rotta e tolse le ruote dei loro carri e ne rese l'avanzata pesante in guisa che gli egiziani dissero fuggiamo dinanzi ad Israele perché l'Eterno combatte per loro contro gli egiziani e l'Eterno disse a Mosè stendi la tua mano sul mare e le acque ritorneranno sugli egiziani sui loro carri e sui loro cavalieri e Mosè stese la sua mano sul mare e sul far della mattina il mare riprese la sua forza e gli egiziani fuggendo gli andavano incontro e l'Eterno precipitò gli egiziani in mezzo al mare le acque tornarono e coprirono i carri i cavalieri tutto l'esercito di faraone che erano entrati nel mare dietro agli israeliti e non ne scampò neppure uno ma i figlioli di Israele camminarono sull'asciutto in mezzo al mare e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra così in quel giorno l'Eterno salvò Israele dalle mani degli egiziani e Israele vide sull'ido del mare gli egiziani morti e Israele vide la gran potenza che l'Eterno aveva spiegata contro gli egiziani onde il popolo teme l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè suo servo questo per me è sempre stata una grande dimostrazione della potenza di Dio infatti mi piace sempre anche ricordarlo in preghiera chi mi ha sentito pregare magari mi aveva sentito anche citare questo l'Eterno è colui che ha aperto una via laddove non c'era ha aperto il Mar Rosso con mano potente e braccio disteso e ha fatto passare e ha liberato il suo popolo come sull'asciutto così il Dio ha operato badate bene che non è che si è ritirata la marea o non ci sono spiegazioni scientifiche qui tutto ha operato contro le leggi fisiche della natura i muri si sono creati due muri d'acqua a destra e a sinistra ci vuole una forza così potente per trattenere i due muri d'acqua nel mare a destra e a sinistra per farvi capire per farvelo capire vi faccio questo esempio se si cade con la macchina in un corso d'acqua nell'acqua la pressione della potenza dell'acqua è così forte che tu non riesci ad aprire lo sportello perché l'acqua pressa contro lo sportello tu da solo uomo non riesci ad aprire puoi per salvarti solamente abbassare i finestrini e uscire dai finestrini perché tu non puoi combattere contro la pressione dell'acqua contro lo sportello quindi immaginatevi voi che potenza c'era lì che tratteneva il muro d'acqua dice un muro d'acqua quanto era alto non si sa ma era un muro alto d'acqua che una forza che tratteneva un muro d'acqua sulla destra un muro d'acqua sulla sinistra in mezzo era asciutto il Dio aveva fatto soffiare un vento orientale e si era asciugato il fondo del mare in quel punto per far passare il popolo di Israele il suo popolo il popolo del Dio vivente vero questo è il nostro Dio che fa anche queste cose ha fatto questa cosa grandiosa e potente ora tu ci credi o non ci credi che le cose siano avvenute così anche contro natura perché se ci credi gloria a Dio così è ma se non ci credi vuol dire che non hai fede ma vedete perché stanno scritte quindi queste cose queste cose stanno scritte tu leggendole ti metti alla prova sei messo alla prova da quello che leggi ci credi o non ci credi in tutto quello che leggi ad esempio un altro passaggio un altro passaggio da leggere è quello molto duro e difficile di cui molti cercano giustificazioni ma non ce ne sono perché le cose sono avvenute così come sono scritte dobbiamo andare a leggere nel libro di Giosuè guardate come fu cosa chiese Giosuè è l'esaudimento l'esaudimento che Dio gli diede a che Dio gli diede a Giosuè Giosuè stava combattendo contro i nemici quando entrò nella terra promessa aveva raggiunto ordine di combattere contro gli abitanti della terra di Canaan e uccidere i nemici ora in una di queste battaglie avvenne quello che ora noi leggiamo capitolo 10 versetto 12 di Giosuè allora Giosuè parlò all'Eterno il giorno che l'Eterno diede gli amorei in potere dei figlioli di Israele e disse in presenza di Israele sole fermati su Gabaon e tu luna sulla valle di Ayalon e il sole si fermò e la luna rimase al suo luogo finché la nazione si fosse vendicata dei suoi nemici questo non sta egli scritto nel libro del giusto e il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero e mai né prima né poi si è dato un giorno simile a quello nel quale l'Eterno abbia esaudito la voce di un uomo poiché l'Eterno combatteva per Israele quindi cosa era successo Giosuè voleva distruggere i suoi nemici lo voleva fare alla luce del sole voleva fermare il tempo volevano trovarli i nemici distruggerli come Dio aveva comandato e invocò l'Eterno disse alla luna di fermarsi in un posto dove era e al sole di fermarsi dove era e rimase qui la scrittura dice per un giorno intero rimase tutto fermo sapete per non scombinarsi tutto tutti gli equilibri nell'universo cosa significa significa che tutto l'universo si è bloccato per 24 ore per un giorno intero si è bloccato tutto questo è il nostro Dio vedete chi è il nostro Dio ma tu ci credi che è avvenuto così che Dio abbia la potenza di bloccare anche il sole la luna la terra tutto è chiaro che è la terra che girava attorno al sole non 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 il sole attorno alla terra noi crediamo a quello che diciamo crediamo che sia la terra che gira attorno al sole ma l'effetto ottico qui è quello del sole che si ferma dal punto di vista umano è il sole che si ferma e così ha parlato Giosuè ecco qui qui perché molti non credono a quello che è scritto si attaccano a queste cose di no vedi questo non sapeva è falso perché ha detto che il sole si doveva fermare come se ruotasse ma era l'effetto ottico cioè Giosuè ha invocato in base a quello che lui vedeva e Dio lo ha esaudito ma non è che ha fermato il sole ha fermato meglio la terra no e la luna anche e ha fermato tutto l'universo non si è mosso più niente per tutto il tempo che Dio ha stabilito per dargli il tempo a Giosuè di distruggere i suoi nemici e questo è uno di quei passaggi biblici che mette a dura prova la fede di certe persone voi se volete sapere la fede che hanno certi credenti certi che si fanno chiamare credenti leggetegli certi passaggi di questo genere e vedete che faccia fanno chiedetegli ma tu ci credi che Dio sia così potente e vediamo cosa vi rispondono volete provare la fede di queste persone fatelo attraverso la parola e poi vedrete prima però ci dovete credere voi ci dovete credere voi in quello che è scritto altrimenti cosa metti alla prova gli altri ma non solo in qualche versetto prima prima del 12 c'era anche scritto questo mentre i nemici che fuggivano da Giosuè mentre fuggivano dinanzi a Israele ed erano all'ascesa di Betoron l'Eterno fe cadere dal cielo sull'oro delle grosse pietre fino ad Azzecca ed essi perirono quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figlioli di Israele uccisero con la spada bisogna credere anche a questo cioè il Dio per uccidere il Dio per uccidere i nemici di Israele faceva cadere delle pietre dal cielo dal nulla capite il Dio creava le pietre dal nulla e le faceva cadere non è che cerchiamo cose scientifiche noi perché dal nulla il Dio ha fatto i cieli e la terra perché la fede è dimostrazione di cose che non si vedono noi non abbiamo visto quando Dio come l'ha fatta e quando l'ha fatta i cieli e la terra però ci crediamo ma noi crediamo che come ha fatto i cieli e la terra così anche può creare dal nulla anche le pietre pietre grosse che possono scendere dal cielo e schiacciare i nemici di Israele io lo credo voi lo credete dovete crederlo anche voi perché così è scritto capite cosa vuol dire avere fede bisogna credere esattamente a quello che è scritto ecco perché la parola è importante la parola è importante perché ti mette alla prova se tu credi o non credi a quello che leggi e questo è un altro passaggio un altro passaggio anche che ho sentito tante spiegazioni tante falsità riguarda Elia dobbiamo andare al primo libro dei re dove Elia veniva cibato dei corvi dei corvi portavano da mangiare Elia Elia fu mandato da Dio nel deserto vicino a un torrente si abbeverava dal torrente e per mangiare il Dio gli mandava i corvi a portargli da mangiare ed è scritto in questa maniera prima re capitolo 17 dal versetto 2 e la parola dell'eterno gli fu rivolta in questi termini partiti di qua volgiti verso oriente e nasconditi presso al torrente che è di rimpetto al giordano tu berrai al torrente ed io ho comandato ai corvi che ti diano quivi da mangiare egli dunque partì e fece secondo la parola dell'eterno andò e si stabilì presso il torrente che è di rimpetto al giordano e i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera e beveva al torrente questo veniva e Dio diede un ordine ora naturalmente quelli che non hanno fede leggono questo passo e si mettono a dire no ma erano una popolazione di quel posto che li chiamavano i corvi no qui io leggo che stanno scritti i corvi e Dio è così potente da ordinare ai corvi di portare del pane e della carne e questi gliela portavano a Elia qual è il problema non ne ha fatto anche forse parlare quell'asino che riprese la follia del profeta il profeta Balaam vi ricordate quindi se Dio può aprire la bocca di un asino per quale motivo non può servirsi di corvi e portare da mangiare a quelle persone a cui Dio vuole portare da mangiare vedete dunque come il Signore si prende cura si prende cura del suo popolo in una maniera o in un'altra e Dio ti fa arrivare quello di cui tu hai bisogno ecco perché Gesù ha detto cercate prima il regno dei cieli e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte perché il Signore lo sa ciò di cui tu hai bisogno lo sa tu cerca prima di tutto il regno di Dio cresci in esso fortificati nella fede e nella conoscenza della parola e vedrai come tutte le altre cose di cui tu avrai bisogno il Signore te le provvederà anche se non gliele chiedi perché se il Signore sa che tu ne hai bisogno e stai manifestando fede in Lui il Signore ti provvederà vedete vedete come come il Signore è grande l'Iddio nel quale abbiamo creduto è potente è grande è misericordioso come anche è giusto però è potente e quindi è degno che noi ci fidiamo di Lui è degno di ricevere la nostra lode onore e gloria e come anche noi dobbiamo avere fede in Lui dobbiamo avere fede in Dio e dobbiamo avere fede anche in Gesù Cristo nella Sua parola quello che è scritto noi lo dobbiamo credere è lì che ci fortifichiamo ma è lì anche che tu vieni messo alla prova tu vieni messo alla prova ci credi o non ci credi in queste cose che sono scritte potrei citarne ancora tante altre che ce ne sono se uno comincia a giustificarsi a cercare cose scientifiche è chiaro che sta cercando delle cose per spiegare quei passi perché non ci crede io credo a quello che è scritto così sta scritto e così io credo e così io parlo e insegno e ricordatevi ricordatevi la fede non deve venire meno non deve venire meno ma deve crescere come vi ho già accennato prima la fede deve crescere come dice come scrive Paolo ai Romani al capitolo 10 versetto 17 dice così la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo quindi studiando le scritture credendo a quello che è scritto noi cresciamo nella fede la fede non viene meno la nostra fede viene messa alla prova da quello che leggiamo se noi e poi cosa succede se tu hai fede sei anche più sicuro perché a volte sei più nervoso quando hai una discussione con qualcuno quando hai un affronti qualcuno e ti senti nervoso ti senti nervoso perché stai manifestando mancanza di fede questo è non hai fede che Dio ti possa guidare in ogni cosa devi stare tranquillo nella calma e nella fiducia sta la vostra forza bisogna avere fede in Dio e bisogna essere calmi tranquilli perché il Signore ci guida e non permetterà che i nemici della verità e dell'Evangelo abbiano il sopravvento ma questo lo devi credere che se pensi tu di vincere con le tue forze stai sbagliando devi essere tranquillo sereno e invocare Dio che ti aiuti a parlare come si conviene in verità però per esserci questa fede deve essere alimentata deve esserci un giorno ci deve essere stata una nuova nascita dove lo Spirito Santo è entrato dentro dentro di te e ha portato con sé la fede depositandola nel tuo cuore da quel momento in poi tu la devi alimentare quella fede non puoi permetterti che venga meno non deve venire meno quella fede e come di come ha detto Paolo qui ai Romani come si alimenta questa fede questa fede si alimenta dalla parola di Cristo perché la fede viene dalla parola di Cristo la fede viene lo ripeterò ancora la fede viene dalla parola di Cristo quindi tu studiala la parola di Cristo anche se non diventerai un predicatore almeno diventerai un uomo di fede capite bisogna diventare tutti uomini di fede la fede è una cosa che più ce n'è e meglio è è meglio un semplice fratello pieno di fede che un predicatore che ha un po' di conoscenza ma non ha fede capite senza fede non serve a niente puoi essere quello che vuoi ma non serve a niente non puoi piacere a Dio senza fede quindi questo era un messaggio per ricordarvi fratelli di perseverare nella fede fino alla fine di non venire meno e anche per ricordarvi che la fede viene dalla parola di Cristo quindi bisogna perseverare perseverare anche nello studio delle sacre scritture affinché la fede cresca e non venga meno questa era l'esortazione ad avere fede e a studiare le sacre scritture che volevo portarvi oggi a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén grazie a tutti grazie a tutti